Benvenuti all'edizione della notte del telegiornale di Telemolisi. In apertura parliamo dell'amministrazione comunale di Campobasso perché stamattina è iniziata ufficialmente l'era del sindaco Battista in consiglio comunale con l'insediamento della nuova assemblea. Durante la prima riunione c'è stata l'elezione del presidente del consiglio comunale Sabino Iafigliola. Ma ci dice tutto Anna Maria Di Matteo. Sabino Iafigliola è il presidente del consiglio comunale di Campobasso. L'elezione è questa mattina nel corso della seduta inaugurale della sese civica. Alla prima votazione Iafigliola ha ottenuto 20 voti, quelli della maggioranza, ma per essere eletto ha dovuto attendere la seconda chiamata e dunque la seconda votazione. In quell'occasione Iafigliola ha visto i riconfermati i suoi 20 voti ed ha potuto così prendere ufficialmente le redini dell'aula di Palazzo San Giorgio. L'opposizione invece è designato come propria rappresentante Maria Laura Cancellario, eletta nelle file di democrazia popolare. Sarà lei la vicepresidente, eletta con sei voti contro i cinque ottenuti da Roberto Cravina, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Una seduta dedicata esclusivamente a tutti gli adempimenti formali, primo fra tutti la costituzione dei gruppi consigliari e l'indicazione dei capigruppo. Partiamo dalla maggioranza. Il PD sarà guidato da Giuseppe Trivisonno, l'IDV da Antonio Columbro, capogruppo dell'Udc e Michele Ambrosio, quello dei popolari per l'Italia e Pasquale Colarusso. Per le opposizioni il Movimento 5 Stelle ha scelto Simone Cretella, il polo civico Michele Coralbo, Francesco Pilone, capogruppo di democrazia popolare, mentre Luigi Di Bartolomeo di Forza Italia e poi ci sono gli altri gruppi monocellulari. Nel corso della seduta il sindaco Battista ha comunicato la composizione della giunta, per la quale tuttavia non ha ancora sciolto le riserve in relazione all'assegnazione delle deleghe. Qualche scaramucci in aula tra opposizione e maggioranza, con il consigliere Pilone pronto a fare le pulci al centro-sinistra, che però al suo esordio si è presentato in aula compatto. E dentro la settimana il sindaco Battista annuncerà le deleghe agli assessori, lo ha confermato lui stesso in questa intervista realizzata da Giovanni Di Tota. Primo scoglio superato della maggioranza del nuovo Consiglio Comunale, eletti gli organi istituzionali, allora cominciamo con un segnale positivo questa legislatura, sindaco. Prima adempimenti compiuti, elezione del Presidente a Figliola al secondo turno di voto, 20 voti, quindi siamo pienamente all'interno di un successo, una rapidità e una coesione della maggioranza. E viva, insomma si inizia a lavorare anche da parte del Consiglio Comunale. Al Presidente a Figliola auguro veramente buon lavoro, così come auguro un buon lavoro al Vice Presidente, nella persona e nella figura di Maria Laura Cancellaria. Passiamo invece al secondo step, la composizione della Giunta, lei ha annunciato gli assessori che erano già noti, le deleghe secondo lei saranno uno scoglio facile o difficile da superare? Assolutamente facilissimo da superare e già sono pronte anche le deleghe. Devo segnalare come la Giunta appena nominata si sia messa rapidamente a disposizione mia e della città, iniziando a lavorare, già da oggi si muoveranno in autonomia secondo le indicazioni che però darò loro e quindi prestissimo avremo le deleghe, sia quelle assessorili sia quella per Vice Sindaco. Due banchi di prova, prima che cominciasse il suo lavoro da Sindaco ufficialmente, i misteri e soprattutto la visita di Francesco, ci sembra di poter dire che sono stati superati di slancio, no? Direi proprio di sì, alla grande, però vorrei che la città fosse a segnalare se le cose sono svolte bene o male. Dal mio punto di vista è risultato un'organizzazione perfetta e quindi colgo l'occasione con questa prima intervista per ringraziare tutte le istituzioni, padre Giancarlo, la Diocesi, la Prefettura di Campobasso con la grossa presenza delle forze dell'ordine, una organizzazione impeccabile, i dipendenti comunali, i dirigenti comunali, tutto il volontariato regionale cittadino che ha offerto una prova di coesione e di capacità incredibile e indicibile. Allora, lei ha fatto le dichiarazioni programmatiche, oggi insomma un discorso ampio a 360 gradi, tre punti però irrinunciabili, diciamo così, entro la fine dell'estate. L'organizzazione, il programma di governo del sindaco e alcune azioni di modo particolare sul verde pubblico per dare continuità alle azioni già intreprese in occasione della venuta del Santo Padre. Il sindaco ha poi ringraziato gli organi di informazione per come è stato seguito l'evento della visita del Papa, in particolare Battista ha sottolineato la copertura di tutti gli appuntamenti di Francesco seguiti nella nostra diretta televisiva con le altre TV. Continua la protesta dei comitati che difengono gli ospedali minori e la sanità pubblica. Oggi conferenza stampa davanti alla sede della Giunta regionale per contestare il piano frattura e per lanciare una legge di iniziativa popolare con l'obiettivo di riorganizzare il sistema sanitario coinvolgendo i cittadini. Per noi c'era Giovanni Minicozzi. Una conferenza stampa tenuta davanti ai cancelli della Giunta regionale dai comitati pro sanità pubblica di Venafro, Agnone e dall'immancabile Emilio Izzo per ribadire la totale contrarietà al piano operativo, peraltro sospeso dal Tarre e bocciato dal Tavolo Tecnico Nazionale. Contestata anche la legge in discussione a Palazzo Moffa sul piano sanitario triennale che, secondo il comitato pro ospedale di Venafro, deve essere sostituita da una legge di iniziativa popolare per riorganizzare il sistema sanitario con il consenso dei cittadini. Ha atteso che probabilmente si è capito che il governo attraverso il commissario d'Acda non può incidere sulla sanità che è in materia che aspetta la regione. Bisogna pur far capire per i nostri politici, verso i quali non nutriamo più alcuna fiducia, questi signori debbono tutti capire che la legge in materia sanità o si fa con i cittadini altrimenti contro i cittadini non si potrà fare. Noi abbiamo gli strumenti per poter fare e proporre un progetto di legge anche in materia sanità. Bastano 2.000 cittadini, 2.000 elettori della regione molise oppure 10 consigli comunali, per non parlare del consiglio provinciale. È una strada che possiamo percorrere e possono essere tranquilli e sicuri che la percorreremo. La materia sanità va discussa e va condivisa con i cittadini. In sintonia anche la rappresentante del comitato, il cittadino CET di Agnone, Enrica Sciulli, che continua a difendere il suo ospedale. L'ospedale deve restare. Si potrebbe parlare di una diversa riorganizzazione quando è garantita l'emergenza, è garantita l'urgenza, è garantito un sistema territoriale che funzioni. Si può parlare di riorganizzare in quel caso, ma riorganizzare a favore dei servizi da dare al cittadino, non tagliare per poi eventualmente dare. A sostenere i diversi comitati anche gli indignati che hanno denunciato il gigantesco conflitto di interessi che, a loro dire, si sta consumando sulla sanità privata e sulle biomasse, è Domenico Izzo che ha parlato di falsità e di promesse non mantenute dal centro-sinistra. Se questo governo regionale, nelle scorse campagne elettorali, durante il governo del centro-sinistra, più volte è accusato, voglio dire, la giunta Iorio per inefficienza, perché vendute eventualmente a logiche private, perché venivano commissariate le sanità con gli stessi presidenti delle giunte che portavano al commissariamento, mi pare che, voglio dire, oggi siamo alle stesse cose. Però nessuno lo dice e questo, ovviamente, a me che preme molto la verità e l'onestà, visto che non ho interessi personali, mi preme a dirle. Allora veniamo qui a sostenere le ragioni dei comitati che dal primo momento sono in lotta sulle questioni della sanità. Intanto si attende da Roma la nomina del nuovo commissario. Scandali di Expo 2015, Mose di Venezia. Tangentopoli non è mai finita, partiti e politici continuano a fare cassa con i grandi appalti pubblici. Non è cambiato nulla, il sasso nello stagno dell'indifferenza lo lancia ancora una volta Antonio Di Pietro, stavolta a Miranda nel corso di un dibattito sul tema Tangentopoli, ieri e oggi, organizzato dall'Associazione Giovani Insieme. C'era Enzo Di Gaetano. Tangentopoli non è mai finita, gli scandali del Mose di Venezia e di Expo 2015 a Milano riportano in cronaca le notizie di sempre. Lì dove ci sono i soldi degli appalti pubblici c'è la corruzione e la concussione, in sostanza un sistema connaturato alla sopravvivenza della stessa classe politica italiana che sembra cambiare ma non muta i suoi costumi e le sue abitudini. Si è ne parlato a Miranda nel corso di un dibattito pubblico organizzato dall'Associazione Giovani Insieme con l'intervento di Roberto Colella e Antonio Di Pietro. In realtà quella che è venuta a galla agli inizi degli anni 90 era un sistema di corruzione, di finanziamenti illeciti ai partiti che insomma già c'era in precedenza, però insomma negli anni 90 venne definitivamente a galla e pose insomma la fine anche della prima Repubblica. Nascono nuovi partiti, però in realtà a distanza di anni, di più di 20 anni, le logiche sono sempre quelle, quindi forse in realtà non è mai terminata sul serio. Ormai in ogni parte d'Italia il sistema si è ingegnerizzato, nel senso che prima commettevano azioni illeciti per raggiungere i fini illeciti, adesso sono pure fintamente lecite perché sempre che la gara è a posto, sempre che le carte formalmente sono in ordine, sempre che ci sono anche i contratti di consulenza, i contratti di appalto, però le carte sono fasulle e invece di fare l'opera si fregano i soldi. Insomma la colpa di quel che è successo alla fine di noi magistrati che abbiamo preso quelli più facili da prendere e quelli più furbi sono rimasti ancora tutti in piedi, il problema è un altro però. Come avete visto molti degli arrestati di oggi sono quelli che già avevo arrestati io ieri, allora il problema non sono loro perché fanno il mestiere che facevano prima e chi li fa entrare? Io li ho buttati fuori dalla porta, questi li fanno rientrare dalla finestra. Evidentemente ci sono ancora tanti complici dentro le istituzioni ancora oggi. Io un po' li conosco ma che posso fare? Per questo non mi fanno rientrare nelle istituzioni perché se no li riconoscerei. Un sistema malato fondamentalmente, ma quale potrebbe essere una via di uscita di Pietro? Una speranza quale potrebbe essere? Caro Matteo, Matteo Renzo a te scrivo. Hai detto che riformavi la giustizia, hai tracciato solo 10 punti linee guida, pane e linee guida, la giustizia non funziona. Te lo dico io, che ci vuole. Un decreto legge urgente che ricostituisca il falso in bilancio così come era prima, che istituisca il reato di autoriciclaggio e che stabilisca una regola. Che chi viene condannato non può più avere a che fare con la pubblica amministrazione, non può più fare politica, non può più fare l'amministratore pubblico. Insomma, non deve convenire ad essere delinquente. Oggi conviene perché invece di andare in galera, al massimo vai in una casa di cura per anziani una volta alla settimana. Capisci a me che mi riferisce, Matteo? La cronaca, sono gravissime le condizioni di una donna di 65 anni di campo marino che stamattina è scivolata in casa mentre scendeva le scale, ha battuto violentemente la testa perdendo i sensi. Dopo gli accertamenti, i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Termoli hanno disposto il trasferimento al Neuromed di Pozzili. La prognosi è riservata. Sono ancora vivissime le immagini e le parole di Papa Francesco e della giornata che il Pontefice ha trascorso in Molise. Parole importanti che indicano il futuro della regione. Vediamo. Il 5 luglio del 2014 rimarrà una data impressa nella storia della regione di Campobasso, di Isernia, Castelpetroso, le tre tappe di Francesco in Molise. Una visita pastorale quella del Pontefice che ha lasciato dietro di sé emozioni indimenticabili. È questo il sentimento generale della gente che, idealmente abbracciato il Papa, lo ha potuto vedere da vicino sfiorare, toccare e che ha trasmesso a Francesco tutto il calore di cui i molisani sono capaci. Un messaggio che è arrivato dritto al cuore del Santo Padre è stato lui stesso a volerlo sottolineare all'Angelus. E vorrei salutare in modo particolare e affettuoso tutta la brava gente del Molise che ieri mi hanno accolto nella loro bella terra e anche nel loro cuore. È stata un'accoglienza calda, calorosa. Non dimenticherò mai. Grazie tante. I suoi richiami sono stati altrettanto potenti. La dignità di chi lavora, l'avvertimento alle istituzioni e a chi governa di avere più coraggio nell'affrontare la piaga, così la definita della disoccupazione. Rompere gli schemi ha esortato Francesco per creare nuove occasioni. Lavoro e riposo alla domenica. Un tema questo sul quale si sta battendo da tempo Bregantini. La domenica, ha detto Francesco nel suo intervento all'università, bisogna perdere tempo per se stessi. Giocate con i bambini, recuperate questa saggezza, ha invitato. La politica, dopo un passaggio così potente e intenso, è chiamata ora alla riflessione. I palchi si smontano, le piazze e le strade tornano territorio delle auto. I riflettori si spengono e il Molise. Torna ad essere la regione così dolcemente spiegata in tre parole dalla finestra del palazzo apostolico. La storia è stata scritta sabato, insieme a un solco tracciato in modo così perentorio e preciso dalle parole di Francesco, che nessuno potrà e dovrà dimenticare. E intitolare l'area dell'ex Romagnoli di Campovasso proprio a Papa Francesco e la proposta dei cristiano sociali del Molise, un parco della solidarietà e della fraternità per ricordare la visita del Santo Padre e i messaggi lanciati da Francesco. Il valore del lavoro, quale elemento distintivo della dignità umana. Custodiremo nello scrigno del nostro animo, hanno evidenziato i cristiano sociali, il messaggio del Pontefice, quale testimonianza del bene che vince sulla tristezza, sulla rassegnazione e sulle divisioni. E due settimane fa in Calabria la scomunica lanciata proprio dal Papa contro i mafiosi. Le parole del Pontefice hanno colpito molto anche i detenuti dell'alta sicurezza rinchiusi nel carcere di Larino. Non ci sono state proteste, ma solo richieste di chiarimenti, ha precisato il cappellano del carcere, Don Marco Colonna. Ce ne parla Fabrizio Chionero. La scomunica lanciata in Calabria da Papa Francesco, esponenti dell'Andrangheta, ha sollevato le reazioni dei detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Larino. Quelli che non sono in questa strada di bene, come i mafiosi, questi non sono in comunione con Dio. Sono scomunicati le parole di Papa Bergoglio pronunciate a Sibari. Non a caso nel penitenziario frentano, in tanti hanno chiesto chiarimenti al cappellano in se in sostanza abbia ancora senso per loro partecipare alla messa. Secondo l'arcivescovo di Campobasso Boiano, Giancarlo Bregantini, si tratta di una cosa sorprendente che conferma quanto il Papa, parlando, incida nelle coscienze. In 15 giorni i detenuti dell'alta sicurezza hanno incontrato il cappellano Don Marco Colonna, che ha voluto però circoscrivere i contorni della vicenda, finite sui riflettori nazionali, escludendo scioperi della messa o proteste dei detenuti. Vi sono state semplicemente delle richieste di spiegazioni, dopo che hanno appreso dai media della scomunica data dal Papa. Ho voluto precisare ai ragazzi detenuti che il Papa nella sua omelia aveva parlato di molte cose e aveva precisato che chi non vive in comunione con Dio, chi si rifiuta di seguire la legge di Dio, non è in comunione nemmeno con la Chiesa. Proprio per questo incorreva, c'era questa scomunica, ma è molto più ambio il discorso. I detenuti hanno incontrato anche il Vescovo della Diocesi di Termoli, Larino Gianfranco De Luca, che doveva celebrare una messa per una crescima proprio in carcere. Don Marco, ma i detenuti sono venuti a messa? I detenuti sono sempre venuti a messa, oltre alla messa, noi abbiamo anche dei momenti di preghiera all'interno della settimana e hanno sempre partecipato numerosi e tranquilli, insomma non c'è stato mai nessuna forma di ribellione. Adesso cambiamo argomento. Campomarino conferma la bandiera blu per il 2014. Il riconoscimento è stato consegnato agli operatori turistici dall'amministrazione comunale. Il nostro servizio. In estate la zona del Lido si riempie di villeggianti, tanto che in agosto si superano le 70.000 presenze e anche quest'anno Campomarino può contare sul riconoscimento della bandiera blu assegnata dalla Federazione Europea per l'Educazione Ambientale. L'ambito vessillo è stato consegnato agli operatori turistici dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco riconfermato Gianfranco Camilleri. Un premio per il mare pulito, ma anche per le politiche di sostenibilità ambientale e le azioni messe in campo per valorizzare il turismo. Riguardo però la carenza dei servizi al Lido, il sindaco ha osservato che nel corso di un mandato non si possono colmare le lacune di 30 anni, ma ha evidenziato Camilleri qualcosa è stato fatto e faremo in modo che quest'anno le cose possano andare per il meglio. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri la responsabile territoriale della Federazione, l'assessore al turismo Anna Saracino e il comandante della Capitaneria di Porto Antonio Nasti. Questo territorio, ha spiegato Nasti, ha saputo conquistare il riconoscimento della bandiera blu e in qualche misura premia anche il lavoro svolto dalla Guardia Costiera, sempre presente nelle attività di controllo relative alla sicurezza. Quest'anno la bandiera blu è stata assegnata anche a Termoli a Petacciato, ma non a Montenero, che con il servizio di raccolta differenziata alla Marina conta di poter esporre il vessillo dalla prossima estate. E adesso parliamo di scuola. Sempre più dilagante è la crisi che ha colpito il settore. Oltre 600 mila sono i precari della scuola, più di mille nel Molise. Per questo mercoledì prossimo a Roma è prevista una mobilitazione per porre l'attenzione sulla stabilizzazione, sulla riforma del reclutamento e sulla tutela dei diritti del settore. Sarà presente anche una delegazione dei precari molisani della FLCCGL. Chiunque voglia prendere parte alla manifestazione può contattare le sedi regionali per ulteriori informazioni. Diritto all'informazione, necessità dell'iscrizione all'ImpG, l'Istituto di Previdenza dei giornalisti. Sono questi temi trattati oggi a Campobasso durante il corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Molise. Sentiamo Marcella Tamburelli. Diffamazione, risarcimento danni, diritto di informazione e tutela legale del giornalista sono stati temi affrontati durante il corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Molise. Ospiti a Campobasso, nella Sala della Costituzione della Provincia, l'Avvocato è membro della Commissione Giuridica Nazionale, Natalino Bianco, e Pierluigi Franz, consigliere nazionale dell'ImpG, Istituto Previdenziale dei giornalisti. Ad aprire il lavoro il presidente Antonio Lupo e il consigliere Enzo Cimino. La libertà di informazione e di stampa, disciplinata dall'articolo 21 della Costituzione italiana, è un tema molto delicato. Tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero, ha commentato Natalino Bianco, ma ovviamente bisogna rispettare determinati canoni quando si parla di terze persone, come appunto per il lavoro del giornalista. L'obiettività dei fatti e il buon costume sono i limiti principali da rispettare e non oltrepassare, per evitare di diffamare i protagonisti delle notizie che si raccontano ed evitare anche di subire querele e denunce. Il diritto all'informazione, che si divide in cronaca, obbligo e satira, ha continuato Natalino Bianco, deve essere rispettato sia da parte dei giornalisti, che devono informare la società, sia da parte di chi riceve le informazioni. Pierluigi Franz invece si è concentrato sull'importanza dell'iscrizione all'ImpG per tutti i lavoratori che appartengono al mondo dell'informazione. È necessario oggi, ha detto il Consigliere nazionale, tutelarsi anche e soprattutto attraverso l'Istituto di Previdenza che fornisce varie prestazioni ai lavoratori del settore. Attraverso l'ImpG, ha ricordato Pierluigi Franz, anche le aziende che operano nel settore della comunicazione hanno degli incentivi, che infatti entro il 7 novembre prossimo assumerà a tempo indeterminato. Giornalisti e cameraman disoccupati o cassa integrati potrò soffrire di contributi e agevolazioni fiscali. Tema fondamentale, soprattutto oggi, visto il periodo di crisi che sta vivendo il settore dell'editoria. Un aiuto importante ai malati di Parkinson può arrivare grazie alle attività quali il teatro e la danza. Lo dimostrano i risultati raggiunti da un progetto curato dall'Associazione Parkinson in collaborazione con il Neuromed di Pozzilli. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. La musica, la danza e il teatro possono dare un grande aiuto ai malati di Parkinson. Lo sta dimostrando l'Associazione Parkinson che in collaborazione con il Neuromed di Pozzilli da qualche anno ha avviato una serie di progetti per coinvolgere attivamente i pazienti. A Venafro, al termine delle attività svolte nella stagione 2013-2014, i protagonisti del progetto hanno tenuto una lezione conclusiva che ha permesso loro di mettere in mostra tutti i progressi fatti negli ultimi mesi. Sviluppando le loro capacità artistiche hanno migliorato anche la loro qualità della vita. Attraverso queste attività, infatti, da un lato ci si prende cura delle problematiche motorie derivanti dalla malattia, dall'altro si affrontano sintomi spesso sottovalutati come ad esempio la depressione. A differenza di quanti molti credono che la malattia si basa solo su sintomi motori tipo il tremore e il rallentamento, in realtà la malattia ha anche sintomi non motori a volte trascurati, di quale la depressione, l'anedonia, ovvero mancanza di piacere e apatia, mancanza di interesse. Questi che si ripercuotono e sulla vita sociale e nel contesto familiare del paziente. E mediante queste attività noi andiamo a focalizzare la nostra attenzione proprio su questo perché prima di tutto noi svolgiamo le attività di gruppo quindi il soggetto si sente in un ambiente familiare perché incontra persone con le quali può condividere la stessa problematica che magari anche nell'ambito della famiglia non viene compresa. Poi magari ognuno adotta le proprie strategie e le consiglia agli altri. Mediante il teatro terapia i pazienti possono comunque esternare le loro emozioni inoltre mediante gli esercizi per la voce mediante le varie prove loro comunque allenano anche la parola mediante la danza, l'equilibrio. La collaborazione tra questi artisti i fisioterapisti e i medici permette come fine ultimo quello di migliorare la loro qualità della vita il loro reinserimento sociale e di conseguenza di gravare meno anche sulle famiglie e anche sul sistema sanitario nazionale. E adesso parliamo di musica perché stamattina c'è stata a Campobasso la presentazione di Jazz in Campo la rassegna di Campo di Pietra taglia il traguardo delle dieci edizioni dal 20 al 22 luglio sul palco tre eventi di caratura internazionale. Vediamo. Tre eventi in esclusiva per l'Italia per la decima edizione di Jazz in Campo che si terrà a Campo di Pietra dal 20 al 22 luglio gli organizzatori hanno messo in piedi un cartellone con grandi nomi internazionali. Si comincia con il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba che si esibirà in piano solo poi lo spagnolo José Luis Gutierrez e infine il batterista argentino Minimo Garei con il suo progetto I Tamburi del Sud. Tre grandi appuntamenti veramente di caratura internazionale una fama indiscussa a livello internazionale gli addetti ai lavori sono concordi su questo e questa decima edizione diciamo non è meno alle altre però ecco nasce con un attimino di difficoltà perché essendo un'amministrazione appena eletta quindi abbiamo avuto qualche difficoltà organizzativa perché i tempi erano stretti siamo in assoluta continuità però insomma organizzare un evento del genere richiederebbe molto più tempo siamo riusciti comunque grazie anche alla collaborazione di chi ha sempre contribuito ad organizzare questa manifestazione nel tempo e quindi anche questa volta diciamo che siamo riusciti ad organizzarla nel migliore dei modi grazie alla Regione Molise comunque che ha avuto questa volta finalmente un'attenzione particolare per l'evento a Campodipietra anche di carattere economico oltre che promozionale dicevo prima in conferenza questa manifestazione non è soltanto un'occasione culturale dovrebbe essere letta e deve essere letta come un'opportunità anche di carattere economico perché noi attraverso questa manifestazione che oramai ha raggiunto abbondantemente i confini oltre Regione ecco essere un veicolo promozionale per i nostri prodotti per le nostre tradizioni per le nostre bellezze che abbiamo sul territorio e che meritano soltanto di essere conosciute ecco avere più tempo per programmare questa manifestazione avendo la possibilità di una programmazione a più lungo termine gioverebbe sicuramente a tutti e con il jazz di Campodipietra termina quest'ultima edizione del telegiornale di Telemolise io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona nottata grazie a tutti grazie a tutti